Ben ritrovati cari amici di Chiaretondo, mi trovo nella galleria Sette Ponti di Arezzo nel negozio del Albatross Magazine. Allora, abbiamo visto le novità dell'estate con jeans, magliette, insomma cose molto sportive per ragazzi sportivi, però naturalmente questo non vuol dire che non ci sia anche un abbigliamento molto più classico. E come vedete qui con me ho un abbigliamento, anzi un completo direi, fatto per voi, per le vostre cerimonie, per i vostri ricevimenti. Come vedete un completo molto classico e abbiamo abbinato quindi un completo formato da giacca e pantalone insieme alla camicia. E come vedete i prezzi sono convenientissimi, beh direi 99 euro questa giacca, no ma che dico 99 euro la giacca? 99 euro costa la giacca insieme al pantalone, cioè più conveniente di così. E guardate la camicia poi, bella, un bellissimo grigio da abbinare a soli 28 euro. Beh io direi che con questo prezzo possiamo anche abbinarci una cravatta, quindi adesso andiamo a scegliere la cravattina, io direi che questa grigia vada più che bene e pensate solo 5 euro. Quindi giacca, pantalone, cravatta e camicia con soli 135 euro avete fatto il vostro completo per le vostre occasioni più eleganti. Ma non è finita qui perché io voglio fare altri completi per far vedere la vasta gamma di scelta di questo abbigliamento elegante, non solo casual, che Albatross Magazine ha. Venite! Allora facciamo un altro completo, quindi direi che dal nero vorrei passare al marrone, insomma che è un colore anche abbastanza elegante, come vedete bello con le righe. Beh vedete il prezzo non cambia, sempre 99 euro, più conveniente di così e adesso dobbiamo abbinarci una camicia, come vedete tantissimi colori, tantissimi modelli, però io scelgo quella classica che è la bianca. E il prezzo? Beh ragazzi sempre 28 euro, allora a questo punto direi di abbinarci anche una bellissima cravatta, come vedete tantissimi anche qui i colori. Prendiamo questa caravatta da 10 euro, eccola qua, guardate che bella! Meglio di così, ragazzi venite qui ad Albatross, trovate il negozio sia in Via Crispi ad Arezzo che nel centro commerciale Sette Ponti. Che cosa aspettate? Sia casual che elegante. Meglio di così, allora Albatross Arezzo, grazie per averci seguito e alla prossima! Grazie a tutti!